Sì, io sono impegnato su quello ogni giorno e sono fiducioso. A me non interessa solamente impedire il tracollo, che non mi accontento di questo risultato. Noi dobbiamo salvare l'azienda, garantire tutti i diritti dei lavoratori e soprattutto consentitemelo finalmente un servizio efficiente per la nostra città e la nostra area metropolitana. Siamo impegnati ogni giorno su questo. È chiaro che per raggiungere questo obiettivo ci vuole la leale collaborazione di tutte le istituzioni che doverosamente si devono interessare di questi, che sono la Regione Campania e il Governo nazionale. Ma io, se posso anche qui fare una previsione, non ho dubbi che il Governo nazionale e il Governo regionale non facciano la loro parte, perché anche qui si tratta di garantire servizi ai cittadini, non di Napoli solamente, di tutta l'area metropolitana. Quindi il Comune farà fino in fondo la sua parte, come ha sempre fatto e anzi, se posso, visto che mi fate questa domanda, vorrei anche ricordare che sinora, e non vorremmo perdere questa sfida, siamo l'unica città metropolitana d'Italia che non ha privatizzato i servizi pubblici. Ecco perché è una grande sfida che deve vedere però uniti lavoratori, sindacati, città, comune, azienda e mi auguro che insieme a noi ci sia anche gli enti sovralocali, comunali come la Regione. Qualche giorno fa lei ha detto che la Regione non deve girarsi dall'altra parte. Ci sarà un incontro col Presidente della Regione De Luca? Ma io non credo che il Presidente De Luca si girerà dall'altra parte. Non entro anche nelle polemiche, nelle scaramucce di questi giorni. Io sono un uomo delle istituzioni. Devo raggiungere l'obiettivo. Domani vado un'altra volta a Roma dove si parlerà di tante cose ed è in programma brevissimo un incontro anche con il Presidente De Luca. Quindi le istituzioni devono stare dalla parte dei cittadini. Ed è il lavoro che io sto facendo e che ho sempre fatto e anche domani, ripeto, ci saranno incontri molto importanti a Roma per raggiungere obiettivi significativi per la nostra città. Giovedì è una giornata cruciale, c'è un incontro anche qui con sindacati, azienda, a Enem. Poi un giorno faremo una riflessione sulle giornate non cruciali. Perché che giornate sono sempre cruciali. Comunque domani vado a Roma che è una giornata cruciale e dopo domani c'è una giornata cruciale con i sindacati che anche qui sono convinto faranno la loro parte fino in fondo nell'interesse dei lavoratori e della città. È un momento di crisi. Questo momento di crisi del trasporto lo si può vivere o cedendo, mollando e quindi mettendo sul mercato un'azienda storica della nostra città, come hanno fatto in altre città. Ci si può limitare a sopravvivere e non è l'obiettivo di questa amministrazione. Sopravvivere significa salvare ma non alzare il livello di miglioramento. Noi invece siamo per la terza sfida. E siccome la sfida è così alta, così grossa, non possiamo che chiedere il sostegno di tutti su questa linea. E sono convinto che l'avremo. Sono convinto che sindacati, lavoratori, città stanno dalla nostra parte. C'è qualche ostacolo. Abbiamo detto un po' questo polemico. Quelli dice che non tutti rimano nella stessa direzione. Esattamente. C'è qualche ostacolo perché poi c'è chi vive la politica come gusto di raggiungere l'obiettivo di far del mare all'avversario senza interessarsi magari che fa un male alla città. Quindi è chiaro che in questo viaggio che stiamo facendo non è che tutti ci dicono siamo d'accordo. Quindi gli ostacoli ci sono. Ci sono nella politica tradizionale. C'è anche in qualche istituzione. Ma il nostro compito, come abbiamo detto più volte, è quella di attuare la Costituzione per raggiungere gli obiettivi. Siccome la mobilità e il trasporto sono un obiettivo nell'interesse generale tra i più importanti di una comunità, la Costituzione ci dice che se ci sono ostacoli, gli ostacoli si devono rimuovere. Quindi la nostra azione quotidiana è raggiungimento dell'obiettivo, rimozione degli ostacoli e fare squadra. Questa è un'altra cosa non facile. Cioè fare squadra, tenere tutti insieme in questa lotta perché è anche un momento di sofferenza. I cittadini sono giustamente arrabbiati, i lavoratori sono agitati perché hanno preoccupazione per il loro futuro. Quindi bisogna comprendere qual è l'obiettivo e sull'obiettivo lavorare tutti insieme. Chi rema contro, Sindaco? No, io mi fermerei qua perché io devo raggiungere l'obiettivo, tanti io so chi rema contro. L'importante è che lo so io.